Dalle prime ore della mattina nelle province di Salerno, Avellino e Napoli, i militari della Compagnia Carabinieri Provinciale di Salerno, supportati da quelli dei reparti territorialmente competenti, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Salerno nei confronti di 11 indagati, 3 in carcere, 2 agli arresti domiciliari e 6 con divieto di dimora nel comune di residenza, gravemente indiziati a vario titolo di delitti contro il patrimonio, contro l'industria, il commercio, contro la fede pubblica e in materia di armi. Il provvedimento si fonda sui gravi indizi di colpevolezza acquisiti dalla Compagnia Carabinieri di Eboli nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno e svolta a partire dal mese di gennaio 2017, convenzionalmente definita Colorado. L'attività investigativa trae origine da una serie di attentati dinamitardi ai danni di attività commerciali ubicati nei comuni di Cogliano, Contursi Terme e Oliveto Citra, tra cui Bar Colorado, Jardor Cafè ed Eden. Gli indagati avevano ingente disponibilità di bombe carta artigianali caratterizzate da spiccata potenzialità lesiva, nonché di armi da sparo e munizioni. Figure di spicco sono risultate Scaglione Biaggio, titolare del ristorante Roma, Simeon Mirella, Raimo Gerardo e Lorenzo ed Ursi Gregorio, titolare di Night Club, che in concorso tra loro realizzavano le azioni delittuose. Tra esse quella che ha avuto ad oggetto il tentativo di eliminare dal mercato il locale Eden, al fine di assicurare l'egemonia commerciale al rivale Cotton Club di Ursi Gregorio, attraverso la collaborazione degli ordigni assemblati in modo artigianale dal Correo Raimo Gerardo. Il canale di approvvigionamento delle bombe da usare negli attentati dinamitardi avveniva presso la rivendita di fuochi pirotecnici denominata Fireworks. Altri delitti completavano il circuito criminoso in cui orbitavano i concorrenti nei reati. In particolare sono stati documentati numerosi incontri finalizzati alla consegna di sostanze stupefacenti del tipo hashish, marijuana e cocaina. Emergevano poi in capo al vuocolo gravi indizi di colpevolezza circa la commissione di furti di cani di razza per rivenderli ad appassionati. Infine è stata scoperta una serie di reati di detenzione e spendita di denaro contraffatto da parte dello scaglione e della compagna Simeon.